Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo le 30. Vedete quel secchio lì? La palla, facendo i palleggi e mandarla in quel bucchetto di ragazzi. Guardate la palla, il super santo. Ragazzi, manda il ciancio e il ciancio. Iniziamo con il video. Ea! Iniziamo 3, 2, 3. Eccomi qui, ragazzi. Ragazzi, 3, 2, 1. Ragazzi, non ce l'ha detto. Non ho fatto, non ho fatto. Ragazzi, iniziamo di calciato, ha girato, faccio il secchio e... Facciamo... Tut, 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 tut... Tut, tut, tut... No, c'era. Questi sono... ему via ok una Guarda ragazzi di nuovo! Cap-ca-ca-ca-pacciolo Noo no no non ci riesco più andiamo da lontano tutututucci 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 ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo iscrivetevi al canale condividetelo per tutto ciao